Da quando un governo di fronte a uno siopero generale ha precettato i lavoratori impedendo da una parte di loro di poter decidere di sioperare? Da quando? Non è mai stato fatto nella storia di questo paese, da nessun governo che ogni cittadino deve avere il diritto liberamente di poter aderire o non aderire a uno siopero. Quando tu metti in discussione questa cosa non stai facendo una cosa contro il sindacato, contro i sindacalisti, stai facendo una cosa contro i cittadini. Bisogna avere rispetto di queste persone, non della GUIL o della CGL ma delle persone che oggi hanno deciso di pagare per stare in piazza a fare un esercizio di democrazia. Chi ha incarichi istituzionali deve avere questo rispetto, una risposta di democrazia a chi fa il bullo istituzionale.